in compagnia di Fiona Bettanini e di Diego Ruiz che sono i miei ospiti, grazie di essere qui con noi che sono i due mattatori di uno spettacolo straordinario che si intitola Orgasmo e pregiudizio per la bellezza di 11 anni, 11 perché si va avanti dall'ormai lontano 1999 per il totale di 1000 repliche e io con i numeri mi fermerei qui perché se no sono veramente spaventosi per chiedervi e per cavalleria comincerei da Fiona ovviamente, come è nata l'idea di mettere su uno spettacolo di questo tipo che è assolutamente sorprendente perché insomma il titolo di per sé rimanda a un famoso libro datato 1813 a nome di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio, dal quale vi siete affrancati ma giusto un pochino però avete giustamente scherzato su questo titolo piuttosto impegnativo, come mai? Dunque, tutto è nato appunto, noi il testo l'abbiamo scritto in realtà nel 98 anche se poi abbiamo debutato nel maggio del 99 e in quel periodo a Roma, al Teatro dei Satiri dove lavoravamo noi erano passati nomi come Franca Rame, Jacopo Fo, Daniele Formica, Lunetta Savino e in quel periodo appunto in quegli anni ognuno di loro aveva affrontato il tema sesso noi chiaramente avevamo seguito tutti questi spettacoli però a un certo punto ci siamo detti perché non affrontare anche noi questo tema però in maniera diversa perché ognuno di loro l'aveva affrontati con un monologo chi in modo più o meno drammatico o comunque comico però diversamente un solo punto di vista, il punto di vista dell'uomo o il punto di vista della donna quindi noi essendo in due abbiamo pensato bene di scrivere questa cosa che mettesse a confronto i due punti di vista entrambi cioè la visione della donna e la visione dell'uomo nella fattispecie nell'intimo del rapporto di coppia per cui la carta vincente alla fine si è rivelata questa perché comunque la gente che viene a guardarci soprattutto le coppie si ritrovano completamente in quello che poi noi diciamo quindi nel quotidiano della coppia ci si ritrova perché noi diciamo cose che in realtà solo due amici possono dire perché poi ricordiamo che noi nello spettacolo non siamo marito e moglie ma siamo due amici per cui due amici si riescono a confidare molto di più i loro, i propri segreti di quanto potrebbero fare di quanto fanno in realtà un marito e un amore è prolissa, è prolissa, che devo fare? è una donna siamo donne, non potete pretendere la rapidità compromessi già durante la scrittura? cioè avete dovuto calibrare? è assolutamente sì noi abbiamo all'inizio stilato tutta una serie di argomenti di cui volevamo parlare e poi io ho scritto il mio punto di vista lei ha scritto il suo abbiamo litigato chiaramente e poi abbiamo cercato appunto di comunque mediare e comunque ognuno di noi come personaggio dice la sua quindi infatti c'è sempre uno scontro poco un incontro tra di noi in scena grazie